Buongiorno ragazzi, bentornati alle nostre consete video lezioni. Oggi sarà una video lezione di educazione civica. Affronteremo, diciamo, dal punto di vista strutturale, ma anche storico, il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione. Quindi all'interno del tema di educazione civica di quest'anno, la Costituzione dallo Statuto Albertino a quella del 48, vediamo questa prima video lezione. Allora, che cos'è lo Statuto Albertino? Lo Statuto Albertino viene concesso da Carlo Alberto nel 1948, l'anno delle grandi rivolte popolari in tutte le principali capitali europee. Quindi Carlo Alberto, che sta reggendo lo Stato Sabaudo in questo periodo, si trova un po' costretto, per certi versi, a concedere quella che viene definita una Costituzione ottriata, cioè una Costituzione che non nasce dal basso, ma che viene concessa dal monarca, il quale limita i propri diritti e concede dei diritti ai cittadini. Quindi il re accetta di sottomettersi allo Stato, quindi non è più superiore allo Stato come nelle monarchie non costituzionali, quindi nelle monarchie assolute, ma accetta, concede ai cittadini di sottomettersi allo Stato con lealtà, dice lo Statuto Albertino, di re e con affetto di padre, si legge nel preambolo. Ovviamente il ruolo del re rimane assolutamente di primissimo piano, il re non si esautra completamente dei suoi privilegi, conserva nei suoi mani il potere esecutivo, quindi il potere di far rispettare le leggi, e condivide il potere legislativo con il Parlamento. In particolare all'interno dello Stato Albertino c'è un istituto chiamato della sanzione, con cui il re ha il potere di porre il veto sulle leggi che secondo lui sono contrari ai suoi obiettivi. Quindi ha un ruolo non solo esecutivo, ma anche di delineare le scelte legislative del Parlamento, di delineare, di limitare e inquadrare, indirizzare le scelte legislative del Parlamento. Nello Statuto Albertino il cattolicismo viene definita religione di Stato, sola religione di Stato, le altre confessioni sono semplicemente tollerate, quindi sono viste in secondo piano. In realtà lo Stato sabaudo è uno Stato che si basava sulle idee di Cavour, quindi quello di libera chiesa in libero Stato, per cui questa affermazione assolutamente fortissima di religione di Stato in realtà è molto limitata dalle politiche liberali della prima parte del Regno d'Italia, quindi che vedevano nella Chiesa un partecipante alla vita comune, ma del tutto distaccato da quello politico, dall'aspetto politico. Faccio un appunto, è molto evidente la differenza col primo emendamento della Costituzione americana che afferma con forza il divieto al Parlamento di istituire una sola religione ufficiale, cioè di riservare trattamenti differenziati alle varie confessioni religiose. Cioè il primo emendamento del 1787 prevede, il 1791 prevede proprio la difesa assoluta della libertà religiosa, come primo aspetto della libertà, quindi già una certa superiorità anche dal punto di vista liberale sicuramente della Costituzione americana rispetto a quella italiana, almeno dello Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino che cos'è? È la classica Costituzione liberale ottocentesca, quindi fondamentalmente tende a tutelare i diritti civili tipici dello Stato liberale, cioè il re concede l'eguaglianza davanti alla legge, l'inviolabilità del domicilio, la libertà di stampa, il divieto di arresto arbitrario, il famoso habeas corpus, e la libertà di riunirsi pacificamente, quindi la libertà di associazione. Quindi libertà di parola, di stampa, di associazione, le classiche libertà ottocentesche, borghesi, dello Stato liberale. Quindi i diritti civili fondamentalmente che scopo hanno? Hanno lo scopo di creare una sfera di autonomia dell'individuo, quindi l'individuo deve essere libero di potersi muovere senza ingerenza dello Stato nelle sue scelte individuali, quindi nel poter esprimere le proprie scelte. Non ci sono ancora i diritti sociali che invece arriveranno nelle costituzioni più moderne, come quella italiana del 48 o quella di Weimar del 19. Cosa succede? Che succede che lo Statuto Albertino viene rapidamente modificato da Benito Mussolini durante il fascismo, dal 22 in poi, perché lo Statuto Albertino è una costituzione flessibile, non rigida, cioè non ha nessun organo che vigili, che i principi della Costituzione non vengano drasticamente modificati, quindi poteva essere modificata a piacimento. Infatti Mussolini dal 25 in poi, con le leggi fascistissime, elimina il pluralismo politico e sindacale, quindi un partito e un sindacato fascista, la Camera dei Deputati, luogo storico della democrazia, viene sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e dal Gran Consiglio del Fascismo, quindi reale organo di governo, la libertà di stampa viene limitata e indirizzata in senso fascista, il Tribunale Speciale e le forze di Polizia Speciali limitano evidentemente la libertà di parola e la libertà di associazione, e nel 28 addirittura venne emanata una legge plebiscitaria, quindi non c'era più la possibilità per gli elettori di proporre una loro idea, dovevano semplicemente accettare le idee del fascismo, addirittura ultima infamia, nel 1938 furono emanate le leggi razziali, quindi addirittura si violava un principio base dall'evoluzione francese, poi quella dell'uguaglianza di tutti i cittadini. Tutto questo avviene senza dover sopprimere lo Statuto, cioè non c'è bisogno di fare una rivoluzione che cancelli una Costituzione, lo Statuto Albertino è come dicevamo una Costituzione flessibile, modificabile a piacimento, e quindi il fascismo trova ampio spazio per poter fascistizzare questa Costituzione. Ovviamente a un certo punto lo Statuto Albertino finisce, perché evidentemente era stato anche lui causa dei problemi italiani, non avere garanzie, non avere un organo di controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi, quindi oggi se c'è una legge nei principali paesi che hanno Costituzioni moderne, c'è una Corte Costituzionale, una Corte Suprema, chiamatela come volete, che decide se una legge è accettabile dai principi costituzionali o meno. La revisione costituzionale dello Statuto Albertino poteva avvenire invece in modo assolutamente immediato, sotto forma di legge normale, quindi neanche di legge costituzionale, e il fatto che lo Statuto Albertino fosse completamente stato oramai svuotato dal suo significato iniziale ed era diventato lo strumento del regime fascista, fa sì che nel momento in cui il fascismo cade e la guerra finisce, è evidente che l'Italia si doveva dare una nuova Costituzione. L'unica cosa che rimaneva da decidere era il destino della monarchia, cioè se darsi una Costituzione ancora monarchica oppure repubblicana e quindi ci fu il referendum, come vedete qua, è la scelta fra repubblica e monarchia con i simboli allegati. Ovviamente vince la Repubblica, quindi noi oggi abbiamo una Costituzione repubblicana. 2 giugno del 46, è il giorno in cui si vota, viene decisa la forma repubblicana e quindi si elegge l'Assemblea Costituente, quindi sono due votazioni in quel giorno, si vota il referendum e si votano i partiti e le persone che andranno nella Assemblea Costituente a costruire, a scrivere insieme la Costituzione. E' la prima forma di consultazione politica a cui partecipano le donne in Italia, 13 milioni di donne parteciparono, 12 milioni di uomini, quasi il 90% di persone partecipa a questa... cioè ci fu tanta voglia, dopo un ventennio in cui non si andò più a votare di dittatura, il 90% fu un risultato incredibile. Vince con 12 milioni 718 mila voti la Repubblica, un paio di milioni in più. della Monarchia. Che cos'è un'Assemblea Costituente? E' un'Assemblea eletta dal popolo, quindi non è più una Costituzione utriata, è il popolo che elegge chi si prende il potere costituente, cioè il potere di costituire una nuova base legislativa che tenga insieme la società italiana. Storicamente la prima forma di questo tipo è l'Assemblea Nazionale Costituente nata durante la Rivoluzione Francese, all'inizio della Rivoluzione Francese. Come vanno queste elezioni dell'Assemblea Costituente? Sicuramente il risultato migliore ce l'ha il neonato partito della democrazia cristiana, ma sicuramente i partiti, diciamo, di tradizione marxista, cioè il partito socialista e il partito comunista, ottengono la maggioranza dei seggi, maggioranza relativa. Cioè sono due partiti che determineranno fortemente, insieme alla democrazia cristiana e insieme ai partiti liberali, diciamo, la forma che avrà la nostra Costituzione, che per l'appunto è un mix di valori socialisti, cattolici e liberali. L'Assemblea Costituente viene presieduta da Giuseppe Saragat, che diventa anche poi il primo presidente della Repubblica Italiana. Oddio, qui c'è scritto... Sì, no, futuro, non è il primo presidente, scusate. Diventerà anche futuro presidente della Repubblica Italiana, mentre momentaneamente il liberale Enrico De Nicola diventa reggente dello Stato, capo provvisore dello Stato, in attesa della Costituzione. I lavori della Costituente si svolgono in un clima veramente molto positivo, dibattuto, combattuto, anche per via delle diverse posizioni politiche presenti, ma sicuramente l'obiettivo di risollevare l'Italia da una guerra disastrosa, pessima per noi, e da vent'anni di dittatura fascista, spinge tutti a una collaborazione estremamente positiva. Quindi la carta è un compromesso, evidentemente, non è una carta prettamente liberale come quella americana, che nasce proprio sotto la spinta di altre motivazioni, di altri eventi storici, ma è una Costituzione che ha dei richiami socialisti, marxisti, cattolici molto forti alla famiglia, ad esempio, e anche liberali, quindi a certi diritti dell'individuo. È un mix che perlomeno fino ad oggi ha funzionato. La Costituente ovviamente non lavora tutti insieme, erano tantissimi i deputati eletti alla Costituente, quindi viene data la redazione del resto base, la famosa commissione dei 75. Sono 75 membri che in qualche mese, quindi all'inizio del 47, quindi in 5-6 mesi circa, riescono a produrre un testo base che poi viene discusso, emendato per circa 9 mesi, ogni articolo viene discusso, vengono presentati in media 12 emendamenti, cioè modifiche per ogni articolo. sicuramente i più discussi argomenti sono l'ordinamento regionale, cioè l'unità d'Italia o una Costituzione che potesse dare più forza alle autonomie regionali, insomma, una bella discussione. L'assetto del Parlamento, quindi che tipo di Parlamento avere, due Camere, due Camere che fanno la stessa cosa, due Camere che fanno due cose diverse, i rapporti con la Chiesa, da una parte i liberali, i socialcomunisti, e dall'altri cattolici, il divorzio, perché viene già messo all'ordine del giorno ma viene accantonato fino al referendum del 74, e soprattutto i diritti economici e sociali, soprattutto il diritto al lavoro che infatti entra nel primo articolo della Costituzione. L'approvazione del testo definitivo avviene alla fine del dicembre del 47, ha una enorme maggioranza, quindi quasi tutti sono d'accordo su questo tipo di Costituzione, e il primo gennaio del 48 entra in vigore. Andiamo concludendo, quali sono le principali caratteristiche, poi vedremo uno per uno i primi dodici articoli in un'altra videolezione, ma quali sono gli aspetti centrali? Abbiamo detto che fonde tre tradizioni storico-culturali, politiche, e ha delle caratteristiche definite. Allora, innanzitutto, sicuramente dal punto di vista liberale, abbiamo il primato dei diritti dell'individuo rispetto a tutto il resto, quindi è il principio di eguaglianza di fronte alla legge. Oltre ai diritti civili, però, classici del mondo liberale, sono garantiti anche i diritti sociali, più ambito del mondo cattolico barra socialista, quindi il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Ovviamente il titolo che ti dà il godimento dei diritti alla cittadinanza, ma attenzione, perché la cittadinanza italiana, la Costituzione italiana, afferma che, e qui è un passo in avanti rispetto all'idea storica che i diritti appartengono o a una classe sociale o a un popolo, non importa se cittadini o stranieri, tutti quanti transitano sul territorio italiano, hanno diritto al godimento degli stessi diritti, a tutti vengono concessi gli stessi diritti. La sovranità appartiene al popolo, quindi la sfera politica è autonoma da quella religiosa, perché lo Stato è laico, un'affermazione che toglie, dopo i patti lateranensi, l'assoluta coincidenza di religione cattolica e Stato italiana. La separazione dei poteri è garantita dalla Costituzione, quindi è una Costituzione che si basa sulle idee di Montesquieu, i poteri sono separati e la magistratura è autonoma e separata da ogni altro potere o condizionamento politico. È una Costituzione rigida, quindi molto diversa da quella dello Statuto Albertino, che era flessibile, e c'è una Corte Costituzionale che vigila con molta attenzione che le leggi siano conformi alla Costituzione. Anche il Presidente della Repubblica ha questo ruolo, di controllare in prima battuta che delle leggi possano essere costituzionali o meno, che infatti il Presidente della Repubblica presiede da Corte Costituzionale. Sono garantiti inoltre i diritti delle minoranze, quindi tutte le minoranze hanno gli stessi diritti della maggioranza, e il suffragio universale. Questi sono gli aspetti centrali, principali della nostra Costituzione. Va bene, vi lascio al vostro studio, ci vediamo alla prossima videolezione.